Guai all'orizzonte per il Daily Mail, il giornale britannico caposaldo dell'informazione scandalistica e relativa al mondo dello spettacolo e del gossip, che nel futuro prossimo rischia di trovarsi ostili due giganti del cosiddetto showbiz, ovvero George Clooney e Angelina Jolie. Per due motivi differenti, non esattamente congiunti l'un l'altro, ma uniti da una motivazione comune, ovvero il fatto che, a loro parere, il Daily Mail dice falsità. Clooney si sarebbe scagliato contro il giornale in seguito alla divulgazione di una notizia fondata su una voce non verificata secondo la quale non ci fosse un ottimo rapporto tra lui e la madre della sua nuova compagna, di cui l'attore si sarebbe innamorato al punto da scegliere lei come predestinata all'altare. Commentando la notizia divulgata il protagonista di Ocean Eleven ha detto, il Mail sapeva che quella storia era falsa ma l'ha pubblicata comunque. Il video scandalo di Angelina Jolie Ancora più seria pare la motivazione di Angelina Jolie, visto il video scandalo che nell'ultima settimana ha dettato l'agenda, ovvero quello che Daily Mail ha acquisito dal National Enquirer e divulgato lo scorso martedì, nel quale l'attrice a fine anni 90 pare visibilmente poco lucida mentre parla al telefono con suo padre. A girare quella clip, come abbiamo riportato a inizio settimana, sostiene di essere stato l'uomo che al tempo riforniva di droga la futura compagna di Brad Pitt. Lei si sarebbe letteralmente infuriata per il video pubblicato che rischia di ledere in maniera irreversibile la sua immagine pubblica e che non ha, secondo quanto da lei sostenuto, alcun fondo di verità. Angelina Jolie ha deciso di fare causa al quotidiano, incrociando il suo fuoco con quello di Clooney, fuoco che potrebbe oggettivamente diventare di proporzioni notevoli. Chi se ne frega.